Da alcuni mesi in Italia sono stati lanciati i PIR. Che cosa sono e come li ha accolti il mercato? I PIR, i piani individuali di risparmio, sono la novità del 2017. Sono stati lanciati per incentivare l'investimento a medio e lungo termine nelle imprese italiane, sia negli strumenti azionari che negli strumenti di debito. L'esperienza di questi primi mesi è assolutamente positiva. Sono stati lanciati e distribuiti numerosi fondi PIR. L'accoglienza da parte del mercato è stata molto positiva. I gestori che hanno partecipato al panel del forum hanno manifestato grande soddisfazione per lo strumento e per il successo che ha riscosso. Anche dal punto di vista del mercato, Borsa Italiana ha mostrato i dati sull'effetto che questi primi mesi di esperienza dei PIR ha avuto sul corso degli strumenti azionari. Tutti gli indici azionari di Borsa Italiana sono aumentati, presumibilmente per l'effetto dei maggiori investimenti derivanti dal PIR. Quali sono le previsioni per fine anno? Le previsioni sono assolutamente positive, al di là di ogni aspettativa iniziale. Addirittura c'è chi si è spinto a immaginare una raccolta nei prossimi anni addirittura pari a più di 30 miliardi di euro. Quindi un potenziale in termini di investimento da parte dei fondi sicuramente positivo. Dal confronto tra i relatori che hanno partecipato alla sessione dedicata ai PIR sono emerse anche alcune criticità. Quali e come si possono superare? Innanzitutto è emersa la necessità di avere alcuni chiarimenti sull'interpretativi della normativa. Il rappresentante del Ministero dell'Unione delle Finanze ha annunciato che ci sarà a breve un chiarimento da parte dello stesso Ministero. Altri aspetti, diciamo chiamiamoli critici, derivano dal fatto che se da un lato la raccolta di investimenti è stata particolarmente rilevante, il bacino di aziende investibili dai PIR è ancora piuttosto limitato. Questo dipende da una parte dalle caratteristiche fisiologiche del mercato azionario italiano che ha un numero di società quotate strutturalmente inferiore a quello di altri paesi. Dall'altro l'auspicio è che i maggiori investimenti che arriveranno dai PIR possano in qualche modo incentivare l'accesso di nuovi emittenti e di nuovi strumenti al mercato che potranno essere investiti sui PIR. Un altro aspetto su cui si è dibattuto è l'opportunità che i PIR investano non solo in strumenti quotati, quindi strumenti liquidi, ma anche in strumenti non quotati, quindi in emittenti che non hanno ancora accesso al mercato e quindi incentivino e facilitino l'accesso da parte delle imprese al mercato, tutto delle piccole e medie imprese, così come il progetto della Capital Markets Union auspica a livello europeo.